Andrew Tate è completamente impazzito, infatti in queste ultime ore sta facendo delle cose e pubblicando dei video che sono deliranti per usare un eufemismo e si sta affossando da solo sempre di più. Credo che il declino di Andrew Tate, che probabilmente sta toccando il fondo solamente adesso, sia così incredibile che andrebbe studiato. E con declino non parlo di numeri perché una volta che diventi virale come lo era lui è anche fisiologico, ma mi riferisco alla sua integrità e dell'immagine che si è creato davanti al suo pubblico. Questo perché la prima volta che avevamo parlato di lui era nel settembre del 2022, all'epoca nonostante i vari ban era all'apice della sua fama, l'uomo più cercato al mondo su tutti i social. E per quanto riguarda i suoi contenuti cosa diceva? Anche di quello ne avevamo parlato all'epoca, ma diciamo che i suoi contenuti motivazionali non erano male, le sue opinioni a volte potevano avere senso e altre volte invece molto meno. Ma credo che anche il suo più grande hater all'epoca non avrebbe potuto fare a meno di riconoscere che era estremamente influente e aveva decine di milioni di fan che lo rispettavano e lo stimavano. Da allora sono successe molte cose, ma piano piano è completamente uscito dal mio radar e ho smesso di seguire quello che faceva e le sue tracce. Fino a quando pochi giorni fa uno youtuber americano che si chiama Coffeezilla ed è conosciuto per smascherare gli influencer che truffano i propri fan, se ne esce con due video per smascherare proprio Andrew Tate e la sua reazione è totalmente fuori di testa. In pratica Coffeezilla stava facendo un'investigazione su una moneta cripto chiamata Daddy che ha lanciato recentemente Andrew Tate e che puzzava molto di scam. Quindi ha deciso di contattare privatamente Andrew facendogli qualche domanda prima di pubblicare il suo video in modo da avere anche la sua versione. E la reazione di Andrew Tate è stata di pubblicare lo screen di quell'email, rendendo così pubblico anche l'indirizzo email di Coffeezilla, insultandolo e dicendo a tutti i suoi fan di mandare una mail a questo youtuber in cui gli dicono di essere gay e che per ogni insulto che mandano a questo youtuber Andrew investirà altri soldi sulla sua cripto Daddy. E non sto scherzando, questa è letteralmente la risposta a uno youtuber che gli ha posto un paio di domande sulla sua criptomoneta. Ci poteva stare e non voler rispondere perché comunque è uno youtuber che gli sta facendo delle domande, non la polizia. Ma una risposta così ridicola e immatura sarebbe stata imbarazzante anche per un bambino di 10 anni. Il video risposta di Andrew Tate a un paio di domande dura circa 2 minuti e per tutto il tempo non fa altro che ripetere insulti da terza elementare. Ma è doppiamente imbarazzante quello che sta facendo con questa criptovaluta sapendo che aveva sempre ripetuto per anni che lui non avrebbe mai truffato i suoi fan con le criptovalute come invece fanno gli altri influencer. E con queste parole che Andrew Tate ha pronunciato moltissime volte durante l'inizio di questa sua carriera sui social, io ero più che d'accordo ed era anche ammirabile vedere uno con la sua influenza e che nel suo periodo d'oro sicuramente avrà ricevuto moltissime offerte di sponsorizzare qualche cripto non cedere e non truffare i suoi fan come invece tantissimi altri influencer e celebrità hanno fatto senza scrupoli. Ed è anche vero quello che diceva sugli influencer che si mettono a promuovere criptovalute e che sono sempre delle truffe. Questo non perché le cripto in sé siano delle truffe perché non è assolutamente vero ma tutte le varie monete che fino a poco tempo fa venivano sponsorizzate dagli influencer, quelle sì avevano l'unico scopo di far salire il prezzo il più possibile durante i primi giorni del lancio poi se l'influencer che gli altri soci di questa truffa vendevano tutto quanto facendo così crollare il prezzo e i fan che hanno comprato quella moneta si ritrovano con qualcosa senza valore. Stessa cosa poi fatta anche con la bolla degli NFT, quelle immagini di scimmie e cose varie che erano virali fino a poco tempo fa. È praticamente la truffa più vecchia del mondo ma per qualche motivo la gente ci casca ancora. Andrew Tate questo lo sapeva bene ma all'improvviso ora che ha deciso di lanciare la sua moneta è cambiato tutto. Addirittura si è messo a sponsorizzarla dicendo che ormai secondo lui i meme coin sono l'unico vero metodo per diventare ricchi e scappare dal matrix. Il sistema è così truccato che le monete meme stanno rapidamente diventando una delle uniche vie di uscita. Bitcoin e Ethereum sono troppo affermate perché chiunque sia povero possa diventare ricco. Gli alt noiosi e non vengono mai promossi. Istruzione? LOL. Un lavoro? LOL. O le monete meme come daddy oppure la schiavitù. Scegli. Quando ricordiamoci fino a poco tempo fa invece diceva questo. Il problema con crypto è che è instigato un culturale che non mi piace. Il culturale è baseato in getting in early. I mean, I guess you could argue as a skill, ma a degree as luck. Gambling, rug pulls, staying anon, hiding like a little coward in a hole. Già, a quanto pare deve essere cambiato qualcosa. Forse ora che non è più popolare come lo era un tempo e non guadagna più così tanto dai corsi che vende lui, deve anche aver rivalutato l'idea di creare una sua moneta e guadagnare sui fan che si fidano di lui. Questa è una delle ragioni per le quali Andrew Tate mi è sceso sempre di più. Ogni tanto, sì, fa anche dei discorsi motivazionali, ma anche più generali che possono essere positivi. Ma poco tempo dopo cambia completamente idea, dimostrandosi ipocrita e facendo l'esatto contrario. Semplicemente perché ora gli conviene di più a livello economico supportare qualcos'altro, rendendo evidente come sia solamente un grifter che va dove gli conviene, piuttosto che qualcuno che crede davvero in quello che dice e ha dei veri valori. E un'altra cosa abbastanza divertente su cui ha cambiato idea totalmente Andrew Tate è su Coffeezilla. Infatti in passato l'aveva allogiato, ma ora che ha parlato male di lui, all'improvviso lo detesta. Infatti in passato l'ho investigato, ora ha un'improvviso e non mi piace ancora più. Questa è la mia statura a te Coffeezilla, sei un f***o. Incredibile come cambi idea in modo così drastico in pochissimo tempo. Tra l'altro, come vi dicevo, il video di Andrew Tate pieno di insulti e l'avere invitato i suoi fan a insultarlo nella sua mail privata che ha condiviso, è stato fatto ancora prima che Coffeezilla pubblicasse effettivamente il video vero e proprio, ma solamente per le domande che ha osato inviare via mail. Domande super tranquille e legittime che vedete qui. Per esempio gli viene chiesto come mai ha cambiato radicalmente idea sul promuovere queste cripto, che in passato anche lui riteneva delle truffe. E poi tiene solo un paio in particolare che fanno riferimento a delle criptovalute che i fratelli Tate nei mesi precedenti hanno sponsorizzato nei loro profili. Quindi non parliamo di questa moneta, Daddy, che hanno creato loro, ma delle pubblicità praticamente che hanno fatto in passato ad altre criptovalute. A me sembrano domande più che normali, soprattutto perché nel video che Coffeezilla ha fatto uscire poco dopo averli contattati, mostra come quelle monete hanno perso tutto il loro valore in pochissimo tempo. Di fatto rivelandosi un investimento terribile per i fan che sono stati convinti a comprarle. E poi c'è solamente uno dei casi che mostra Coffeezilla, dove una delle monete promesse dai fratelli Tate fa una fine terribile. E a questo punto penso che anche i fan più accaniti di Andrew Tate potranno notare la sua grandissima incoerenza. Praticamente quello che ha fatto è estremamente simile a ciò che hanno fatto moltissimi altri influencer, come per esempio Logan Paul, promuovendo delle cripto che poi si rivelano tutto tranne che convenienti per i fan che le hanno comprate, ma solamente per le influencer o per chi le ha promosse. Solo che Andrew Tate, fino a poco tempo fa, era il primo che attivamente denunciava e criticava chi faceva queste truffe. Quindi non si può nemmeno pensare che l'abbia fatto per ignoranza, perché sapeva esattamente quello che ci sta dietro. Ma ha scelto comunque di farlo. E il motivo secondo me che l'ha portato a ignorare totalmente la sua morale è che ultimamente il suo personaggio non sta più funzionando come una volta. Per chi non lo sapesse, quando era diventato virale, vendeva un corso che in realtà vende tuttora, con pagamento mensile di 50 euro, che prometteva di insegnarti vari metodi per guadagnare soldi. Nel 2022, quando era nel picco della sua fama, aveva tantissimi iscritti, anche perché chi comprava il corso guadagnava dalle commissioni facendo video su di lui e invitando altra gente a entrare. Ma ora che si parla molto meno di lui, inevitabilmente sono calati molto anche i suoi guadagni e i membri di questo abbonamento. E così, come mostra Coffeezilla nel suo video, la provate un po' tutte per cercare di convincere la gente a restare dentro e continuare a pagare. Come una specie di sistema che ti va a salire di rango, più tempo resti dentro, promette dei vari giveaway per i membri, tipo questa Lamborghini con Trump stampato sopra. E ora, a quanto pare, ha deciso di buttarsi anche nel mondo della promozione di queste monete che lui stesso ha sempre odiato e considerato scam. Dopo tutti questi mesi che non ho seguito Andrew Tate, devo dire che lo ritrovo veramente peggiorato. Un personaggio che si dimostra così incoerente con i suoi stessi valori e la sua stessa morale è veramente triste. E chi lo seguiva già da prima che diventasse ciò che odiava, mi chiedo come faccia a seguirlo ancora e supportarlo. Io direi che passo la parola a voi nei commenti perché per oggi è tutto. Vi ringrazio tutti gli abbonati al canale per il supporto e noi direi che ci becchiamo alla prossima. Grazie a tutti.